Sono passati ben 3 minuti da l'ultima volta che ho aperto sto gioco Perché sono andato a far merenda e avevo fame E ho deciso di continuare subito, mi sta veramente piacendo Con veramente piacendo intendo, è carino L'ultima boss fight mi è piaciuta veramente, il resto è abbastanza What is this? Heroic in match, no thank you Tra l'altro non so neanche se ci sono upgrade alle armi, per forza ci sono gli upgrade alle armi Ci sono queste pietre qua, ma sono per incantare non per upgradeare Non lo so, non ne ho idea, però devo ucciderla finisce Quanti di... Che cazzo è quella roba lì dietro Ehi Ciao, Ione, ciao Hai già fatto abbastanza danni Che palle, mi sembra di sentire i miei genitori Self-deprecating humor Ok, non avevo mai esplorato questa zona e non avevo considerato l'ipotesi che ci fossero nemici Suona che è shotta abbastanza Sunstone, sunstone Ah, si distruggono anche perché E' palla Devo ucciderla fenice, ma continuo ad addentrarmi in altri posti Quello ha aperto quello Son caduto Duecentomila metri I know where I am Se solo riuscissi A saltare lì Ah, si può Perfetto Non so cosa sia sta roba Però Bulwark Ammetto Che è figo il concetto di trovare dei libri che ti danno sia lore Che quindi interessa boh a gente tipo Sabaku Sia Danni in più contro il boss Che interessa a tutti Ma non posso attaccarli Che dodge Che Scomodo che è mirare Anche perché non c'è un intermedio tra qua Ah, si c'è l'intermedio Ma la mia levetta non me lo lascia fare facilmente Facciamo così allora Ehi Non ti ho visto l'attacco Mmm Là c'è qualcosa Ehi No, non ci arrivo Super paura Facciamo così Una E due Adesso facciamo l'explosion Avvicinatevi Explosion Sempre soddisfacente Con la roba lì Tu Bastardo Soulstone No Thank you Non ancora Perlomeno C'è tutta un'altra zona qua Io ero convinto Non ci fosse Invece Eia Spellblade È un'arma Richiede 15 intelligenza Allora Fa un attacco così Però posso anche tenere premuto E fare Mentre tu Qualcosa Qualcosa Che studiavo la lama You know what Non so se preferisco questo Scala con l'intelligenza Fa 65 danni 22 danni 400 volte meno La provo un po' Vediamo cosa ne penso Non l'ho fatta apposta Avrei la panacea però Oh mio dio Dura una vita Certo che devo prendere la panacea Ne ho una solo una Utilizzo due pozioni Vabbè Ok vediamo quanto ci impiega Uccidere quel tizio lì Appena finisco di morire Per colpa di questo Veleno di merda Ok Calcio Dopo Oh mio dio Che danni I love it Ok sono tornato qua Oh scusa Non volevo attaccarti Mi ero dimenticato Posso No Però posso fare così Non ce l'ho pensato Leaf of Gaia Ah E' un'altra di quelle cose che Ora come ora Non mi ricordo cosa fanno Ma vabbè Ce la posso fare saltare Dai Ho La finice Entrambi i libri della finice Buono Super buono Ciao Learn ability Tra l'altro posso usare No vedi Non posso usare Quell'abilità Perché non ho The book Of the dead Quindi se l'equippo In weapon 2 Posso usarlo Però devo usare così Ah Interesting Mi sa che andrò così Lama E E libro Oh Che paura Ah però devo Andare da una statua E pregare E con pregare Intendo riposare Oh Io non capisco ancora Sta cosa di premere lb Per le scale Però vabbè Che inquietante Il tizio di dietro E così farà più danni Probabilmente Se io Scappa 212 Contro 64 Rotolo Ok non sono tantissimi danni Però Sono comunque abbastanza Da Mettermi ansia Non ho idea di come raggiungere Quel posto lì Qui c'è Ah c'era il tizio Guarda Allora faccio Perché non ha attaccato Non morire Thank you Non volevo andare Dall'altra parte Ha poco range Però sta spada Alduin Cape È meglio di quella che ho Sì perché la mia non fa niente Cazzo mi dimentico sempre Che non hanno un range massimo Può finire la lama? Non sembra Sai cosa? Sai cosa? Quasi quasi Mi trovo più comodo così Perché è vero Fa tanti danni questa Però Ha un range talmente piccolo Che non mi pare molto utile Ok Ok Oh fucking I love how that Explosion Ecco vedi qua È più utile La katana Wow Via E ora posso andare A uccidere la fenice Perché ho i danni aumentati Del 20% Boh Perché quello mi ha colpito Non dovrebbe aver colpito Facciamolo così Anche se probabilmente Soul of the Phoenix Anche se probabilmente Usare il fuoco Non è L'idea migliore Perché premo RT convinto Che sia Schivato Oh che range hai Quando fare Ready to die Lancia la sua arma Ok È difficile Schiva No Lancia la sua arma Non volevo fare questo Ui Cioè questo È più difficile Che non Il cosa Non so cosa voglia dire Sta roba qua Che diminuisce Le shard Magari mi dà 132 Che è fin dove sono arrivato Mi serve Un sacco più Intelligenza Che sia meglio La lama Contro di lei Non lo so Interesting Devo pensare Il salto È un po' Scomodo In sto gioco Ok Tanto con la vita In più Non mi serve Dai Sto nemico qua Non è facilissimo You know what Me ne vergogno Ma sono costretto A farlo Puoi saltare Adesso questo Mi colpisce Verona Simpatico Almeno ho ripreso Il mio piuma Ehi ne ho tre Che bello Perché c'hai un range Così alto Perché tutti i nemici Hanno un range così alto In sto gioco Il mio piuma Il mio piuma Sceva 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 Ok Oh devo grattarmi il naso No Ma vaffanculo Dai che attacchi di merda hai Dai no Ci sono 200 tasti da premere Questa non è una buona boss fight Qui mi sento come se Avendo 400.000 range In più di me Avesse un vantaggio Che non vale Anche questo Ma gli stessi Quindi c'è tacchi Della tizia Ok Qui devo saltare Mi colpisce comunque Ok Facciamo così Anche se non è l'idea migliore Onestamente Sì 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 Voleva No Tasto sbagliato Cioè Io premo La schivata Ma non me la fa Dai che c'è un timing Stupido Cioè io Non va In che modo è divertente Un boss così Con un range infinito Vabbè Io ci vado anche incontro Da bravo furbo Cioè non ho stamina Per Ehi ce la stai facendo Ho dimenticato Che il burn Fa quello Che tacchi mi fai Ok Cos'è sta cosa Ah ok Classico Uccidirà Ok Ho deciso di tankarla Vabbè Vabbè Comunque non sono convinto Sia un boss fight Comunque Combo finisce Cioè Cioè sul The Sanctuary La Faire Perché Aveva delle boss Che erano difficili Però Non Con Sbilanciate In loro favore Tranne La strega del lago Ma non parliamo Della strega del lago E Boh Cosa sta succedendo qua Aia Non sai cosa Vaffanculo Torno indietro Thank you Ok Ora Lo schivo Faccio Eppala Obsidian Veil Sono invisibili le trappole Ok Schiva Schiva Inquietati Tirarmi un pugno Almeno colpisci Mi con la tua arma Ok Ok Il nemico più facile Di sempre Ah ma non ci sono più I tizi che Facevano cose Che Paurissima Ho saltato Sulla sedia Ouch A vero se V3 V4 Ah la stessa V4 Che cosa che ho Perché si sta Ingrandendo La visuale A paura Dice un libro Non so come raggiungerlo Ciao 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 Io vado su Ci si vede No Uno di quei cosi Cos'era Quel fulmine Perché ho perso Tutta sta vita C'è un fulmine Che mi colpisce Ma da dove arriva Boh Comunque Più su non riesco a saltare Quindi Non ha senso Proseguire di qua Bisogna andare di qua Trappole Ed è lui Che fa il fulmine Fortuna che La mia magia Va oltre Gli scudi Ah non era lui Che mi lanciava i fulmini E' quell'altro dietro Qua era anche Quell'altro dietro Grazie Può venire Più in qua Grazie Ancora un pelo Più in qua Mi corrompero Più in qua Grazie Qua dove ci sono Bravo Molto bene Qua Qua Attaccami Bravo No Ia Aia No Ho mancato Il pugno Quando vado nel panico Continuo a premere RT Credendo che sia la schivata Ma non lo è E sono triste Basta È rotto Il cazzo È rotto Ma no È rotto Cazzo È rotto Grazie al cielo Tundra Tundra Lord Cairn Ciao Tizio Imprigione Nooo Non volevo attaccarti Volevo attaccare la gabbia Nimeria È Il metalupo Di qualcuno Oh Oh Mind releasing me From this cage I'm not from France This is a totally new accent That can still be range That can still be range I'm not from French Nooo 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 Mi sono lasciato fregare Oh Un altro flashback Voglio diventare Un bambino grande Un bambino vero Mammali Tu dori Ti avrai Un cazzo Un cazzo